Da Monaco a Pescara, sei giovanissimo, classe 2002, cosa ti aspetti da questa stagione? Mi aspetto di giocare il più possibile e di migliorare individualmente. Le tue caratteristiche tecniche in campo, dove ti senti bravo bravo? Tre quartisti, ho seconda punta, dietro una punta di posizione, sono più un giocatore di movimento. A Monaco hai scoperto molto da vicino il calcio francese, so che è un idolo lì. Sì, il calcio francese secondo me è molto diverso da quello italiano, è più tecnico e individuale, invece in Italia si lavora molto sulla tattica e le posizioni in campo. Che cosa ti aspetti da questa stagione dal punto di vista personale, oltre a migliorare? Spero di giocare il più possibile per fare esperienza. Adesso passo nel calcio degli adulti, che è un calcio molto più difficile e diverso, quindi spero di migliorare e di farmi uno spazio. A chi ti ispiri dei grandi campioni? Isco e Pirlo.